Se la sconfitta dell'Enel Basket Brindisi contro Avellino lascia la mare in bocca, ancora più deprecabile è il gesto antisportivo di Linton Johnson, cestista della Sidigas, che a fine gara si rivolge così ai tifosi brindisini. I sostenitori biancazzurri provocati non ci stanno e si crea un momento di tensione e contestazione, controllata dalle forze dell'ordine, ad ogni modo a essere fuori luogo e proprio la mancanza di sportività del giocatore avellinese. Impresa non semplice per l'Enel Basket Brindisi, che seppur in visita nel pala del Mauro di Avellino, per affrontare la Sidigas, ultima in classifica con quattro punti, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa, proprio sul parchi amico contro Biella, terza debacle consecutiva per i campani, affronta i biancazzurri con le unghie e con i denti. I pugliesi al completo ed in forma arrivano al contrario da tre affermazioni consecutive ed otto punti in classifica, tra cui la grande vittoria in trasferta contro Sassari. Al termine della gara valida per la non aggiornata del campionato di Serie A di palacanestro, vince Avellino che si afferma con il risultato di 81 a 71, schiodandosi dal fondo della classifica e salendo a sei punti. Bucchi, che in settimana ha preparato con attenzione la partita, prima di due trasferte consecutive, ha a disposizione ancora una volta l'intero roster ed in campo manda Simons, Gibson, Reynolds, Vigiano e Robinson. Dall'altra parte Gianluca Tucci, head coach da soli 12 giorni dopo il saluto di Giorgio Valli, esordisce con il quintetto formato da Richardson, Spinelli, Shakur, Johnson e Ebi. Inizia forte Brindisi supportata sugli spalti dai 400 tifosi giunti dalla Puglia in un pala del Mauro semi vuoto ed occupato solo nella curva opposta dai fedelissimi tifosi organizzati del sodalizio cestistico avellinese. Nei primi tre minuti è dominio Brindisi con 1-0 a 7 maturato con i canestri di Simons. Per lui due liberi di una schiacciata ed una tripla di Vigiano. Per Avellino a rompere il ghiaccio è un gioco da tre punti di Shakur ed un canestro di Richardson alternati ad un altro libero di Simons che con un canestro di Vigiano modifica il punteggio 5-10. E Gibson per Brindisi con un canestro ed una tripla alternato al canestro di Spinelli, Shakur e Mavraides a portare i padroni di casa sotto 10-15. Lei nel basket non segna più e alla sirena Warren con un libero e Shakur con due canestri consecutivi riportano il punteggio sul 15-15 che chiude il quarto. Nella seconda frazione Avellino continua a segnare e va per la prima volta in vantaggio 16-18. Le squadre si rincorrono tra i canestri di Gibson e Ndoia per Brindisi e le risposte di Johnson, Mavraides e Shakur per i campani. L'equilibrio è mantenuto fino al 25-26 per Brindisi che con un parziale di 5-11 ad un minuto dal termine e avanti più 7-30-37. Il quarto sta per terminare e gli ultimi due minuti servono all'enel basket per controllare con Robinson e Fulz che con un canestro ed un'azione da tre punti con canestro libero aggiuntivo permettono di chiudere a riposo lungo più 6-34 a 40. Al rientro sul parquet la new basket difende male e concede agli avversari due triple consecutive di Richardson e Mavraides e il 40-40 che nel giro di 4 minuti diventa vantaggio velinese più 3 per ben due volte sul 42-45 e sul 44-47. A fare la differenza sono Johnson, Shakur e Dragovic. Brindisi prova a contenere con Vigian e Reynolds, si torna al pareggio sul 49-49 e Gibson spinge con due liberi il vantaggio 49-51. Ma dura poco, sul finale di tempo una tripla di Richardson, un canesso di Johnson ed una nuova tripla di Dragovic segnano il massimo vantaggio di Avellino più 6-57 a 51 che chiude il tempino. Nell'ultimo quarto i padroni di casa allungano il vantaggio più 11 in 7 minuti di gioco. Brindisi infatti inconcludente per i campani valgono i giochi di Shakur e Johnson. Sul 66-55 Bucchi chiama il time-out della speranza ma rientro Richardson mette in solitaria il più 13-68 a 55. Le difficoltà dei biancazzurri in difesa creano ulteriori problemi ed il divario aumenta 68-55. Il finale di gara non regala nessun cambiamento e il risultato resta a pannaggio dell'Avellino che vince 81-71. Da segnalare quindi il gesto poco sportivo di Johnson che provoca i tifosi Brindisini e rovina comunque la serata sportiva. I biancazzurri perdono una occasione ma ora il pensiero deve andare subito alla prossima trasferta che vedrà la squadra di coach Bucchi impegnata contro Reggio Emilia.